I finanzieri del nucleo del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma a sei distinti provvedimenti di sequestro di beni per un valore di oltre 14 milioni di euro, emessi dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della procura distrettuale. Le misure patrimoniali hanno riguardato complessivamente 16 tra esponenti di spicco organici e soggetti contigui alle cosche d'Indrangheta dei Cerra Torcasio Gualtieri e dei Giampà di La Mezzia Terme, oltre che dei Gallace Gallelli di Guardavalle, Anello di Filadelfia e nei confronti di un soggetto Diamantea condannato per scambio elettorale politico-mafioso. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria e del GICO di Catanzaro hanno eseguito 14 distinti provvedimenti riguardanti la Rupa Franco di Amantea, trovato Luigi, contigua alla cosca d'Indrangheta dei Giampà, Origlia Domenico di Guardavalle e Mallamace Francesco di Vibo Valencia e infine Cerra Nino e Cerra Teresina, condannati già in via definitiva nell'ambito dell'operazione denominata Chimera. Il sequestro, disposto dal Tribunale di Catanzaro, è giunto al termine di complesse articolate indagini di polizia economico-finanziaria, svolte dalla Guardia di Finanza. I beni posti, in sequestro del valore di oltre 2 milioni e mezzo di euro, sono costituiti da 15 appartamenti e una lussuosa villa con piscina alla Mezzia Terme, un appartamento ubicato nella provincia di Firenze, tre terreni agricoli di cui due coltivati a vigneto, un intero compendio aziendale di un'attività commerciale di abbigliamento e ancora un intero compendio aziendale di un'attività commerciale di prodotti latteari alla Mezzia Terme. Quote di una società operante nel settore dei call center, 14 autoveicoli, 10 autovetture e 4 motocicli, infine anche un acquascooter. Le attività odierne di aggressione patrimoniale coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sono state finalizzate all'individuazione e all'apprensione dei patrimoni illeciti. Le stesse sono state eseguite in modo coordinato ed organico dai reparti della Guardia di Finanza operanti nel distretto di Catanzaro.